Buongiorno amici di Sarremo Caffè, allora siamo qua, l'unico che prende il caffè perché ho preso un cappuccino, è il dottor Gorilla qua, presenti, salutiamo anche Rossana, ciao Rossana come stai, è venuta l'amore di Fabrizio, è venuta a trovarci, tu prendi il caffè, la coca cola, è la sardinaira, è la tipica colazione saremasca, portuale. Abbiamo finito questa bellissima esperienza e vi salutiamo, adesso facciamo colazione che è praticamente quasi pranzo però ciao ragazzi.